Di assoluta impossibilità di proseguire il lavoro in aula, il senatore Luci è stato, diciamo, quello che più di tutti, secondo la mia valutazione, impediva e mostrava attraverso anche i comportamenti di estrema gravità che l'aula è un potere ottimale, quindi ho detto già e non ho nessuna difficoltà di ammettere in aula il senatore Luci, naturalmente se giustifica, se giustifica in ogni caso riconosce